Diciamo che non ho iniziato giovanissimo perché mi sono avvicinato al teatro nelle scuole elementari quindi le classiche scuole testive che fai comunque con gli amici quindi non c'è un lato serioso o niente poi mi è piaciuto da morire e ho continuato al liceo con una scuola di teatro di improvvisazione cosa che esatto per me era una cosa nuovissima cioè per me il teatro era una cosa da copione, molto statica invece scoprendo l'improvvisazione mi sono innamorato perché è come se quando le cose non le sai e le vai a dire diciamo senza copione abbraccio proprio, abbraccio vengono fuori più naturali, anche più belle è vero, è verissimo anche più vere io quando faccio la regia in teatro uso tantissimo l'improvvisazione alle prove che è un cazzo periculo però scusate no, nel senso che io che faccio doppiaggio da quando ero ragazzina e che quando mi sono messo a fare teatro ho lasciato perde ho detto fatelo voi che siete più bravi no perché è vero, perché poi uno deve anche ammettere di quanto soppipa e lasciar perdere il problema mio era quello della memoria e di riuscire a lavorare senza avere un testo davanti che è quello che è poi il vizio del doppiatore che io non mi muovo senza un testo poi noi siamo bravi a fare la gincana nel testo però quindi tu vai più con l'improvvisazione, ti piace di più? da morire perché vengono fuori delle cose interessantissime proprio che magari non verrebbero fuori in altre occasioni cioè la situazione è quella, è la stessa della scena che tu devi provare però improvvisaci sopra e vengono fuori delle cose talmente interessanti che io le rubo anche no giusto, le riesci a fissare è quella la cosa bella che riesci a fissarle allora Matteo io ti consegno questo testo che abbiamo come dico sempre al doppiaggio Giorgia si è un'improvvisazione praticamente perché tu arrivi non sai il cazzo, non sai niente e uno ti dice allora c'è questo c'è che ne so Brad Pitt sto doppiando doppia Brad Pitt e fai questa battuta certo se lo dicono a me poi sembra il problema anche perché c'è ne so, Angiolina Jolie doppia me Angiolina Jolie e tu devi devi andare a dare una letta a quello che è al volo rapida e poi dare il massimo in questo provino che sono pochi minuti noi qui diamo la possibilità ai nostri amici di leggersi il testo ma veramente cinque minuti prima della trasmissione dopodiché i testi sono qui raccattati sulla 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 scrivania non sono più dati a loro non sono più affidati a loro e quindi un po' di improvvisazione cioè non è proprio improvvisazione però un po' ce n'è allora Giorgia per quanto riguarda Matteo io ho scelto un pezzo tratto da un doppiaggio e quindi da un film del 1998 stiamo parlando di Anthony Hopkins il personaggio William Parrish e da chi è doppiato nella versione originale? da uno proprio dall'ultimo arrivato dall'ultimo arrivato dall'ultimo arrivato da Dariaccio da Dariaccio Penne che salutiamo ciao Dario un applauso veramente Dario grandissimo e allora io sono qui per lasciare a te il microfono lasciare a te il video e ti metto anche una base un po' più tranquilla un po' più romantica romantica diciamo ti metto un satì guarda e allora signore e signori iniziamo la trasmissione di questa sera lui è Matteo Carbone e reciterà un monologo di Anthony Hopkins dal film vi presento Joe Black voglio che qualcuno ti travolga voglio che tu leviti voglio che tu canti con rapimento e danzi con un derviscio sì abbi una felicità delirante o almeno non respingerla lo so che ti suona smelato ma l'amore è passione ossessione qualcuno senza cui non vivi io ti dico buttati a capofitto trova qualcuno da amare alla follia e che ti ami alla stessa maniera come trovarlo? beh dimentica il cervello e ascolta il cuore io non sento il tuo cuore perché la verità tesoro è che non ha senso vivere se manca questo fare il viaggio e non innamorarsi profondamente equivale a non vivere ma devi tentare perché se non hai tentato non hai mai vissuto non respingere chi lo sa esiste il colpo di fulmine